Capitano, una brutta partita che però regala tre punti, no? C'è da prendere cosa? Il risultato o hai trovato qualche altro elemento positivo? No, credo che oggi sia la cosa più importante aver preso i tre punti, quindi premiamoci questi tre punti guadagnati contro una buona squadra, anche se si trova giù in classifica con un punto, però è una buona squadra, ci ha messo in difficoltà, ma è anche vero che noi in più di un'occasione abbiamo sbagliato, abbiamo scopato l'occasione per fare la partita. Hai venuto la sensazione che la squadra fosse un po' bloccata dal punto di vista psicologico? È una sensazione che abbiamo provato solo noi oppure tu dal campo hai visto i tuoi compagni che magari hanno subito queste due settimane pesanti per tutto l'ambiente? Non è facile riprendere dopo la sconfitta di Santa Croce per come è venuta, dovevi tranquillamente prendere tre punti e invece sei tornato a casa con zero punti, per cui riprendere dopo 15 giorni non è facile, c'era l'obbligo di fare risultato e diciamo che un pochettino abbiamo accusato anche questo.